Bella ragazzi, sono sempre io, Ryuka E come sempre siamo qui su Made in 2 Per fare un altro video di Upp Stavolta Un altro video di Upp dove Upperemo il nostro teschio delle anime da P8 a P9 Qua abbiamo già perla rossa e il nostro simbolo del guerriero Beh, faccio questo video dopo tanto tempo che non ne faccio perché alcuni me l'hanno chiesto Quindi, non lo so, voglio ritornare a fare un video tanto per farvi felici E non so, buona visione Intanto vi comunico che nella mia tastiera si è scassata la barra spaziatrice Quindi io scrivo due puntini Vadovi Ma, vedete che cosa Vabbè, dai Proviamo a tuffare questo teschio delle anime Speriamo che riesce più No C'è il 25% però Non si diceva niente Giusto Allora, 3, 2, 1, no Vale Attenzione Datemi voi il 3 1 2 E E E 3 E porco cane E quant'è che non fallici il telecomando Tichiro Vabbè, tranquilli ragazzi Ti riesco a dire al più 7 E buon questo si botteghizza dalla bottegaglia Perché il più 7 non me ne faccio niente Bene ragazzi Dai Dai Firestorm E da Ryuk è tutto Bella Ragazzi si stoppa Ecco, ciao Bella a tutti Ciao